Buonasera, benvenute e benvenuti alla seconda edizione del TG6 che non possiamo che aprire nel ricordo delle vittime di una delle peggiori tragedie che hanno segnato l'Abruzzo negli ultimi anni. Sono trascorsi quattro anni ormai da quando una valanga da 120.000 tonnellate di neve distrusse l'hotel Rigopiano, affarindola uccidendo 29 persone. Oggi sul luogo della tragedia si è svolta la commemorazione in ricordo delle vittime, ma anche con la rabbia nel cuore dei familiari per il processo giudiziario che procede a rilento. Stefano Recanati. Il ricordo delle 29 vittime di Rigopiano in una cerimonia sobria condizionata dalla pandemia Covid-19. Nel quarto anniversario della tragedia una commemorazione in forma privata è stata organizzata dal comitato Rigopiano in attesa del fiore per ricordare i propri cari vittime della valanga che ingiottì il resort Gran Sasso il pomeriggio del 18 gennaio 2017. In mattinata una delegazione del comitato ha incontrato il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, per discutere della questione Giardino della Memoria. Ho proposto al comitato una delocalizzazione che chiaramente resta nel simbolo della memoria, ma che chiaramente vada a prevenire anche ogni tipo di rischio dal punto di vista delle valanghe, quindi acquisendo tutti i pareri dal Correneva, dalla Sovrintendenza e dal Parco e in sinergia con la provincia di Pescara andremo a realizzare a primavera quest'opera. Il ricordo piano diventerà un centro di preghiera perché non pensiamo che per il turismo sta pure sulla preghiera perché io vado tutti i giorni su e vedo che vengono da San Gabriele, passano a Castelli e poi vengono a fare una preghiera, a portare un fiore sui nostri cari. Le celebrazioni hanno preso il via dalla fontana che si trova 300 metri prima dell'hotel con una fiaccolata fino al totem del resort, un tempo ingresso della struttura neppure sfiorato dalla valanga. Sicuramente oggi è un giorno da dedicare al loro ricordo, anche se non passo un giorno che non ci sia un pensiero per loro, oggi in modo particolare perché io sto rivivendo tutti i messaggi che ci siamo scambiati e tutta l'ansia di quel giorno e ovviamente la rabbia si prova, si prova anche oggi. Io ho sofferto insieme ai familiari di Viareggio perché avendo rapporto con loro non le nego che quel giorno ho pianto insieme a quella mamma che urlava perché penso sia veramente atroce dopo 11 anni e mezzo trovarsi in quelle condizioni. Mi auguro che non accada la stessa cosa perché nel caso nostro, questa l'ho sempre definita una vergogna dell'Italia a livello internazionale, quindi mi auguro che lo Stato abbia il coraggio e la civiltà di punire veramente, severamente chi ha sbagliato. Qui erano presenti le più alte cariche militari e civili tra cui il prefetto di Pescara Giancarlo di Vincenzo, del questore Luigi Liguori, il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio. Certo, questa è la speranza, è chiaro, quel giorno si scatenarono gli elementi e successe un fatto di portata biblica, come cataclisma. Tutti speriamo che non debba mai più accadere e stiamo lavorando perché questo non accada ma più in particolare nelle prossime settimane concluderemo finalmente il lunghissimo iter della Garta Valanghe che era uno dei presupposti per evitare che sul territorio possano accadere disgrazie in maniera improvvisa e imprevedibile. Prima della funzione religiosa sono state deposte 29 rose bianche, una per ognuna delle 29 vittime nell'area in cui un tempo sorgeva il resort, alle 16.15 la messa e alle 16.49 ora precisa in cui il mostro di ghiaccio e detriti travolse l'hotel, un coro ha intonato signore delle cime mentre volavano in cielo 29 palloncini. E ora la pagina dedicata al Covid con il consueto bollettino fornito dall'assessorato regionale e la sanità con i numeri del virus nella nostra regione. Sono 107 nuovi casi di coronavirus accertati in Abruzzo con i test delle ultime ore. Il rapporto tra positivi e tamponi eseguiti è pari all'8,25%. Si registrano 8 decessi recenti che fanno salire il bilancio delle vittime a 1.333. Nonostante una riduzione degli attualmente positivi, aumentano in modo significativo i ricoveri che passano dai 481 di ieri a 497 di oggi. Si tratta dell'incremento più consistente nelle ultime due settimane. I tamponi eseguiti nelle ultime ore e da cui sono emersi nuovi casi sono circa 1.300 ma nel bollettino ufficiale viene segnalato un incremento complessivo di 6.522 test frutto di un riallineamento dei dati dal 1 gennaio ad oggi. Eseguiti inoltre 7.196 test antigenici più 5.406 rispetto a ieri. Il dato dei tamponi molecolari e dei test antigenici fa sapere l'assessorato regionale alla sanità viene esposto separatamente e non in forma aggregata. Dei nuovi positivi il più giovane a 2 anni e il più anziano 95. Gli 8 decessi, due dei quali avvenuti nelle scorse settimane comunicati solo oggi dalle ASL riguardano persone d'età compresa tra 40 e 97 anni, 3 in provincia di Chieti, 4 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Pescara. Gli attualmente positivi sono 170 in meno e scendono a quota 11.382. 454 pazienti più 11 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 43 più 5 rispetto a ieri in terapia intensiva con 7 nuovi ricoveri mentre gli altri 10.885 meno 186 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. I guariti sono 269 in più per un totale di 26.707 persone dall'inizio dell'emergenza sanitaria. E a proposito di Covid, il momento attuale della pandemia non consente di abbassare la guardia ma gli effetti delle feste natalizie, spiega ai nostri microfoni il dottor Giustino Parruti, sono fortunatamente più attenuati. Paolo Renzetti. Gli effetti se ci sono, se ci sono stati degli assembramenti, un po' chiamiamoli così, del periodo natalizio, post natalizio di Capodanno, si stanno vedendo questa famosa terza fase. Se è arrivata, è un po' più attenuata di quello che si prevedeva, qual è la situazione? Ecco, partiamo dalla sua ultima affermazione. È un po' più attenuata per fortuna. Noi abbiamo sempre un certo numero di insufficienze respiratorie che ci visitano ogni giorno e 4-5 qui a Pescara a ricoveri di pronto soccorso tutti i giorni. Però credo che l'azione di mitigamento che c'è stata, cioè di riduzione dell'attività di assembramento, ha dato un buon risultato, altrimenti potevamo temere peggio. Possiamo dire da oggi che da qui a qualche settimana la situazione potrebbe lentamente migliorare? Poi è ancora presto? È un po' presto perché c'è la coda che necessariamente si associa in queste fasi dei contagi nosocomiali. C'è comunque un'attività costante e per cui perché gli effetti di questi numeri così bassi di questi giorni si ripercuotano in un reale carico ridotto dei nostri reparti, io credo che ancora una mesata dobbiamo aspettarla. Abruzzo è una delle regioni dove sono stati fatti più vaccini tra le prime sei nel nostro Paese e questa è una bella notizia però. Ci fa molto piacere soprattutto perché per l'economia della nostra area. Quanto prima raggiungeremo una copertura adeguata a poterci consentire una ripresa dell'attività ordinaria, tanto prima tutto il nostro sistema tornerà a fruire. E da oggi è possibile prenotare le vaccinazioni per gli over 80? È questa una cosa davvero importante in questo momento? È una cosa importante, è una cosa bellissima, mi sembra un'eccellente soluzione organizzativa che permette di avere delle liste pronte cui attingere in continuo man mano che il vaccino è disponibile. Quindi io trovo che l'iniziativa è davvero molto, molto rodevole. E l'Abruzzo sarà una delle sei regioni italiane a non risentire dettagli nella distribuzione del vaccino Pfizer-BioNTech dopo che l'azienda ha deciso uno stop alle forniture. Nella Marsica prosegue la somministrazione delle dosi. Ascoltiamo allora la testimonianza di due medici appena sottoposti al vaccino nel servizio a cura della redazione d'Infomedia. Di fianco a me due medici di medicina generale, il dottor Barbati Domenico e il dottor Francesco Ulanio, entrambi si sono sottoposti proprio questa mattina assieme ad un altro gruppo di operatori, di personale sanitario alla seconda dose di vaccino anti-Covid. Parliamo del vaccino Pfizer. Loro fanno parte dei primissimi vaccinati in Abruzzo. Dottore, questa mattina quindi si torna a besperare con questa seconda dose? Speriamo di sì, noi ci auguriamo che possano essere vaccinati più persone possibili, soprattutto anche le persone anziane, gli insegnanti, che è una categoria che non deve essere trascurata, perché se le scuole le vogliamo aperte devono essere vaccinati anche tutti quanti gli insegnanti, non secondo soltanto noi, ma tutto quanto il mondo scientifico internazionale. Penso che sia l'unica arma che a noi abbiamo oggi seria. È stato autorizzato anche il vaccino Moderna. Che cosa significa avere tra le mani la bandiera dei primi vaccinati in Abruzzo e quindi di portare avanti questa testimonianza anche con tutti gli step successivi? La cosa che mi preme sottolineare, anche per risponderti, è che il vaccino contro il coronavirus ha un aspetto che va oltre quello prettamente medico-sanitario, perché c'è bisogno di tornare alla normalità. L'unico modo è la vaccinazione, una vaccinazione che dal punto di vista tecnologico è più sicura forse anche di molti altri vaccini che ancora oggi si praticano per altre patologie, perché questa tecnica ARNA non è una tecnica nuova perché si studia da un po' di anni già, però è efficace, più sicura e personalmente, anche se la mia esperienza ovviamente conta per me, io non ho avuto alcun effetto collaterale. L'invito che noi facciamo oggi, stando qua, è di non aver paura della vaccinazione, evitare complottismi, puntare alla normalità, ma una normalità non soltanto per noi operatori sanitari, ma una normalità per i bambini, per gli insegnanti, per le scuole, per tutte le imprese che stanno soffrendo. Si passa attraverso la vaccinazione. E a proposito di vaccinazione, sono 2064 le manifestazioni di interesse alla vaccinazione anti-Covid inserite sulla piattaforma telematica regionale fino alle 18.30 di oggi. Dopo i primi rallentamenti della mattinata, nelle ultime ore, gli interventi dei tecnici della Regione hanno consentito il ripristino, pressoché completo, del sistema. Si ricorda che per registrarsi alla piattaforma è necessario munirsi di codice fiscale, numero di tessera sanitaria e codice di esenzione per le categorie fragili. Adesso cambiamo argomento e parliamo di politica. Dei 200 milioni di euro disponibili per il cura Abruzzo 1 e 2 ne sono stati erogati appena 51 milioni. La denuncia arriva dal Partito Democratico che chiama in causa la Giunta Marsilio. Il Partito Democratico contesta il lavoro fatto dalla Giunta regionale per il cura Abruzzo 1 e 2. Questa mattina in conferenza stampa Paolucci avete detto dei 200 milioni disponibili, ne sono stati erogati appena 51. Esattamente, il 25% a cui andrebbero sottratti i cosiddetti fondi rotativi, ovvero i fondi a prestito. Effettivamente alle imprese e alle famiglie sono arrivati appena 20 milioni di euro circa. Per quanto riguarda le imprese, 6 milioni di due banti che ammontavano a 70 milioni, quindi meno del 10%. È una denuncia forte perché noi periodicamente facciamo una sorta di tagliando al cura Abruzzo 1 e 2. Purtroppo le denunce che già lanciavamo un anno fa all'atto dell'approvazione si sono verificate oltre addirittura alle nostre aspettative corrette. Cioè le procedure di norma, provvedimenti amministrativi e burocratiche che avevano scelto purtroppo rallentavano il percorso di erogazione. La verità è che le risorse per le famiglie e soprattutto per le imprese sono rimaste al palo dopo un anno di denunce e promesse. Hanno utilizzato queste norme esclusivamente per fare politica nazionale. Il Presidente Marsiglio si è messo a disposizione del suo partito per aprire sempre una dialettica, un confronto critico col governo, ma per quanto riguarda la Presidenza e il ruolo di Presidente dell'Abruzzo e degli Abruzzesi la sua giunta è rimasta davvero ferma. Tante categorie, imprese, famiglie, consorsi, casi di riposo e comune attendono da mesi i ristori promessi dalla Regione. Noi abbiamo avuto un atteggiamento molto collaborativo in sede di approvazione di queste due leggi, cura Abruzzo 1 e cura Abruzzo 2, ma abbiamo criticato il merito e soprattutto le procedure, tant'è che dopo tanti mesi una piccolissima parte dei 200 milioni di Euro messi in campo con queste due leggi sono arrivati a destinazione e poi tanta parte sono fondi rotativi, cioè sono prestiti momentanei che devono essere restituiti alla Regione nel più breve tempo possibile. Davvero un tradimento forte da parte di questa giunta regionale verso l'economia, verso i comuni, verso le imprese, verso le case di riposo di questa Regione. Voglio fare alcuni esempi. I bagnatori stanno attendendo ancora il milione di Euro promesso e normato per quanto riguarda i danni delle mareggiate del novembre 2019. I ristoratori hanno chiesto tanto, c'è stato un tavolo importante proprio qui in Regione, nulla delle loro richieste è stato raccolto e accolto da parte di questa giunta regionale, si sono fermati solo ad un grande comizio contro il Governo nazionale. Così come le case di riposo, stanno attendendo sia i 3 milioni a fondo perduto e sia i 4 milioni di fondi rotativi e lì ci sono operatori che stanno soffrendo e non ricevono stipendi da mesi e parliamo di un settore molto molto sensibile dovuto ovviamente alla pandemia. Consegnati questa mattina a Teramo i lavori per la realizzazione del nuovo ponte di Castelnuovo. L'infrastruttura costerà 6 milioni di Euro e sarà strategica per i comuni produttivi della zona. Soddisfazione dell'amministrazione provinciale per aver sbloccato un'opera che dovrebbe rappresentare la rinascita del territorio teramano. Ascoltiamo Tania Bonici Castelli. La provincia di Teramo ha consegnato ufficialmente i lavori del nuovo ponte di Castelnuovo. Ad aggiudicarsi l'appalto è stato il consorzio stabile e rinnova, costituito da 10 imprese teramane. L'opera prevede un investimento di circa 6 milioni di Euro. I fondi sono quelli della regione Abruzzo, circa una metà provenienti dal Masterplan. L'infrastruttura sul fiume Vomano collegherà la rete stradale nelle zone produttive di Cellino a Tanasio e Castelnuovo Vomano. Oggi finalmente possiamo fare la consegna, i lavori cominceranno da subito, tempi dei lavori 6 mesi, quindi confidiamo che in questo breve tempo possibile possiamo consegnare alla nostra provincia di Teramo un'opera strategica sia per il collegamento delle vallati del Tordino con il fiume, ma soprattutto per l'intera provincia. Io penso che questa possa essere anche un'opera, un po' il simbolo della rinascita della provincia di Teramo, che va nella direzione appunto della rinascita e come ho detto l'altro giorno di riconnetti il territorio. Affidiamo a quest'opera una grande importanza strategica appunto come ho detto per il rilancio definitivo della provincia di Teramo. Come voi sapete in pratica dal nostro arrivo in provincia abbiamo trovato tutte opre bloccate, quindi non era la prima opre bloccate, come sapete c'era anche un'altra opera importante che è il ciclo pedonale di Roseto che confidiamo anche a breve di far ripartire, quindi anche su quest'opera affidiamo anche una ripartenza immediata affinché si possa completare la pista ciclabile di tutta la costa Teramana. Il nuovo ponte di Castelnuovo avrà un'unica carreggiata formata da due corsie per un'ampiezza complessiva della piattaforma stradale di 10,50 metri. L'Aquila non ce l'ha fatta a diventare capitale della cultura 2022. L'ambito riconoscimento è stato vinto dall'isola di Procida in Campania. Arrivato tra le dieci finaliste nella corsa del riconoscimento del MIBAC, del Ministero per i beni, le attività culturali e il turismo, il capoluogo d'Abruzzo ha lavorato sodo con la produzione di un elaborato dossier scritto e video coordinato da Pierluigi Sacco. Dovremmo premiare tutte e dieci le finaliste, ha detto il Ministro Dario Franceschini durante la proclamazione online della città vincitrice. Nell'anno della rinascita sarà Procida a rappresentare la spinta culturale italiana e il laboratorio con lo slogan l'isola che non isola. E siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale che inauguriamo con il calcio di Serie B, sconfitta pesante per il Pescara che nello scontro diretto contro la Cremonese regge nel primo tempo ma poi crolla nella ripresa sotto i colpi di Ciofani e l'autorete di Jarosnischi. Per il Delfino un deciso passo indietro dopo la vittoria ad inizio anno contro la Reggiana. Un Pescara appena sufficiente nel primo tempo ma imbarazzante nella ripresa perde per 2-0 al cospetto della Cremonese lo scontro diretto dell'Adriatico dopo 90 minuti che hanno fatto emergere i nuovi limiti difensivi ma anche offensivi della squadra abruzzese. Breda con tre quarti di difesa auta, arretra sulla linea dei centrali, Val di Fiori a centrocampo Omeonga gioca al posto di Bellanova con Masciangelo quinto di sinistra. Il neo biancazzurro Macin va in panchina, tanti gli assenti anche fra gli ospiti che si schierano con il 4-3-3 all'Adriatico, dirige la penna di Roma al quarto minuto sugli sviluppi di una rimessa laterale, palla in area Lombarda Galano che calcia sporco mandando il pallone di un soffio sopra la traversa, fasi iniziali di gara equilibrata con più possesso palla ospite ma poche occasioni alla 31esimo temissile di Valzania e palla che sfiora l'incrocio dei pali della porta di Vincenzo Fiorillo. Resta così lo 0-0 di inizio partita. Alla 39esimo a proteste del Pescara dopo un contatto in area grigio-rossa fra Setter e Castagnetti con il giocatore ospite che tocca anche la gamba del colombiano ma con il direttore di gara che lascia ancora una volta proseguire lasciando qualche dubbio sulla sua decisione. Finisce così senza rete il primo tempo dopo una gara molto equilibrata e con poche occasioni. Nella ripresa cremonese in campo con Daniel Ciofani per Strizzolo sarà la sostituzione che cambierà il match. Al terzo pericolo in area abruzzese con Fiorillo che non trattiene il pallone calciato da Seller prima della respinta su Valeri ed il salvataggio di Valdifiori dopo il fischio del direttore di gara La Penna che segnala un fuorigioco. All'ottavo ancora ospiti pericolosi con un tiro a fil di palo di Valeri. Sicuramente molto meglio la squadra di Pecchia che ricorre anche a Gaetano in questo avvio di secondo tempo con Breda che al tredicesimo manda in campo Vokic per uno Pago Galano. Continua a far meglio però la formazione grigiorossa che al sedicesimo con Ciofani trova il vantaggio con il gol dell'ex Biancazzurro all'esto a mettere alle spalle di Fiorillo su assist di Valeri. Male il Delfino con gli ospiti più vivi e con il tecnico pescarese che effettua un doppio cambio con Crecco e Fernandez per Masciangelo e Maestro. Ma al ventesimo arriva il raddoppio ospite con un autorete di Erosischi che segna nella porta sbagliata. Notte fonda per il Pescara in crisi di gioco e con Fiorillo che al ventiquattresimo evita il tris salvando su Selar. Delfino letteralmente alle corde con la Cremonesi a fare il bello del caldivo tempo. Irriconoscibile davvero la squadra di Breda che si agita in panchina con gli ospiti però che dominano il proscenio. Al ventinovesimo c'è l'esordio di Macin che entra al posto di Busellato prima del tris di Gaetano annullato dall'arbitro per fuorigioco. Partita che sembra già abbondantemente chiusa anche se al trentaduesimo setter di testa chiama la parata carne secchi. Per il Delfino da segnalare al novantunesimo la punizione di Memushaire spinta dal portiere ospite prima del tripice fischio finale di La Penna che certifica la quinta sconfitta casalinga stagionale del Pescara atteso ora dal doppio turno esterno di Salerno e Verona con il Chievo. Serie C continua la striscia senza vittorie del Teramo che cade al Rocchi di Viterbo per effetto della rete di Marchic in chiusura di primo tempo. Solita prestazione scialba della squadra di Paci che perde il terzo posto in classifica e scivola alle spalle di Avellino e Catania. Ania Cantagalli. Il Teramo gira a quota 28 punti in classifica chiudendo il girone di andata con la sconfitta in casa della Viterbese per 1-0 ed allungando la striscia dei risultati senza vittorie a ben 8 consecutivi. A decidere al Rocchi un gol di Marchic a fine primo tempo. Paci ritrova a Piacentini che torna subito titolare in difesa dopo il reintegro in lista. Per il resto è la formazione vista contro l'Avellino. Nella Viterbese fa invece il suo esordio dal primo minuto l'ex Livorno Murillo. Pronti via ed è un diavolo che mette subito pressione agli avversari come non si vedeva da un po'. Diachite gira di testa un angolo ma soprattutto qualche minuto dopo Santoro si guadagna un calcio di punizione che Bombaggi manda sul palo. Lo stesso Santoro è però più veloce degli altri a affiondarsi sul pallone trovando Daga a negargli la rete. La Viterbese fa fatica a costruire ed il Teramo si fa ancora pericoloso. Al diciottesimo Ilari manda Bombaggi al tiro mentre poco più tardi Costa Ferreira imbecca Piacentini che di testa manda alto. Al ventitresimo Arrigoni impegna centralmente l'estremo di casa ma questa sarà l'ultima azione della prima frazione in casa a diavolo. Da quel momento in poi infatti la Viterbese sarà pericolosa da palla inattiva. Al trentaquattresimo Murillo non inquadra la porta da due passi sfiorando il palo. Al trentanovesimo Benzaia trova ancora la testa dell'attaccante brasiliano con Lewandowski che però para senza problemi. Dall'ennesimo calcio di punizione scaturisce il gol dei padroni di casa. Benzaia mette in mezzo, si crea una gran confusione in aria da cui emerge Marchic e la sua deviazione vincente tra le proteste dei giocatori del Teramo. Il diavolo non inizia bene la ripresa e Baschi rotto ad impegnare inizialmente Lewandowski con Tunkara che lo segue a ruota poco dopo. La reazione biancorossa è ancora in un calcio di punizione disegnato da Bombaggi che finisce di poco alto sulla traversa. Due minuti più tardi è Costa Ferreira a pescare l'ex Pordenone che di testa però trova Daga. Al trentatresimo ancora una volta Lewandowski a mettere una pezza su Tunkara lanciato a rete che si fa ipnotizzare dall'estremo del diavolo. Al quarantesimo poi l'ultimo sussulto. Gerbi confezione una doppia occasione mettendo Palla a terra in aria e trovando la combinazione Daga-Palo a negare il pareggio. Sulla ribattuta è ancora il legno esterno a ribattere i tentativi del Teramo. La formazione di Paci perde così il terzo posto in classifica e domenica prossima Palermo dovrà fare i conti anche con le squalifiche di Arrigoni e di Achite. In serie D battuta d'arresto per il notaresco che a Genzano perde il match con la Cinzia Albalonga per 1-0. Il gol decisivo dei laziali è stato realizzato da De Vico con il rosso-blu di Epifani che hanno giocato la ripresa quasi per intero in inferiorità numerica per il rosso a Marchionni. Nel freddo pungente del Bruno Abbatini di Genzano la spunta a dimisura la Cinzia Albalonga sul notaresco al quale non riesce l'aggangio in vetta alla classifica sulla capolista Castelnuovo. I padroni di casa devono fare a meno di pace squalificato e Angelilli, gli abruzzesi in formazione tipo si schierano con Banegas e Marchionni alle spalle di Dos Santos. Il primo squillo di marca locale con Panaioli ma il suo destro non inquadra lo specchio della porta. Al diciottesimo dubbio il fuorigioco fischiato a Dos Santos lanciato da un ispiratissimo Marchionni. L'ex Monte Giorgio 30 secondi dopo lancia Frulla, bravo a inserirsi con i tempi giusti, meno a tu per tu con Santilli, bravo a respingere. I bianchi di casa non ci stanno e si distendono in fase offensiva con Giannoco in mezzo, pesca Panaioli ma la mira del 7 come in precedenza non è precisa. I rosso-blu provano a pungere anche in contropiede quando Marchionni lancia Dos Santos ma la conclusione non sortisce, gli effetti sperati. Al ventisettesimo Tegola per Epifani che perde Colombatti per infortunio, al suo posto Matteo Gallo. Alla mezz'ora stessa sorte per Barbarossa che accusa un problema muscolare, al suo posto il mister Venturi inserisce Di Vico. Nella ripresa subito in avanti gli abruzzesi con Dos Santos che crede in una palla vagante ma valanga in uscita Santilli rimedia come può. Il notaresco fiuta il colpaccio ma le cose si mettono in salita al dodicesimo quando il direttore di gara espelle per doppia munizione e Marchionni Reo nella circostanza di aver simulato un fallo all'interno dell'area di rigore tra le proteste della panchina rosso-blu. La Cinzia approfitta dell'uomo in più e passa a condurre al ventitreesimo con Di Vico che dal centro dell'area di rigore di testa insacca il cross di Mazzei. Epifani prova a scuotere i suoi mandando in campo Simoncini per Blando e Palumbo per Ghiani e proprio sui piedi dell'ex Pineto capita una ghiotta occasione al trentatreesimo ma la sua conclusione è a metà tra un tiro e un passaggio. Sul capovolgimento di fronte Oggiano oggi un po' in ombra ha l'occheazione per chiudere la gara ma il colpo di testa fa la barba al palo. Sul finale di gara Seriello di Chiari ristabilisce la parità numerica mandando anzitempo sotto la doccia Mazzei per doppia ammunizione nel recupero. Tanta confusione in campo che non agevola le speranze di rimonta del notaresco. Pareggio deludente per il Pineto che al Mariani Pavone fa 1-1 col Fiugi. La squadra di Incocciati passa in vantaggio con Forgione e Biancazzurri rimediano ma il cammino della squadra di Amaolo rimane deficitario. Roberta Di Sante Il Pineto non va oltre l'1-1 con l'atletico Terme Fiugi riacciuffando nel finale solo grazie ad un calcio di rigore. Una gara che si era messa in salita fin dalle primissime battute per gli abruzzesi dopo il passo falso di 15 giorni fa a Rieti. Amaolo cambia modulo tornando al classico 4-4-2. Non c'è Salvatore in difesa alle prese con un problema al polpaccio. Il tecnico Biancazzurro arretra Paoli sulla linea dei difensori a centrocampo esposito. Fa coppia centrale con Minincleri mentre in avanti c'è Minnozzi a Darmanforte a Tomazzini. Si schiera a specchio il Fiugi con Incocciati che dà le chiavi del centrocampo a Forgione e Proia mentre Basilico fa da collante con la coppia d'attacco Tornatore e Cifarelli. Pronti via e dopo sei minuti doccia gelata per i locali che vanno subito sotto quando sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto da Proia Forgione è il più lesto di tutti a trovare di testa la deviazione vincente e portare in vantaggio i laziali. Il Pineto colpito a freddo accusa e al dodicesimo rischia di insattare il raddoppio con una conclusione dalla distanza di Tornatore che termina a lato. Dopo aver tenuto il pallino del gioco per i primi 20 minuti del primo tempo i laziali arretrano il baricentro lasciando man mano l'inerzia della partita al Pineto che prova a riacciuffare le sorti del match. Al diciassettesimo è Tomassini a sprecare per poca convinzione un'ottima palla all'altezza del dischetto del calcio di rigore favorendo l'intervento di Novi che al venticinquesimo per poco non si lascia sorprendere dalla traiettoria velenosa del colpo di testa di Minnozzi. Il Pineto insiste ma non riesce a trovare il gol del pari neppure al ventottesimo quando Pierpaoli gira di testa la punizione di Minincleri con la sfera che lambisce il palo. Si va così al riposo sul parziale di 0 a 1 in favore degli ospiti. Nella ripresa il Pineto è costretto a fare la partita mentre il Fiuggi approfitta degli spazi lasciati dai biancazzurri per pungere come al minuto 2 quando la difesa locale si fa infilare da tornatore Cifarelli con quest'ultimo che a tu per tu con Mercorelli salgia i riflessi dell'estremo locale. La reazione biancazzurra 4 minuti più tardi punizione di Minincleri esposito gira in mezzo di prima intenzione per Tomassini ma la sfera si impenna oltre la traversa. Il Pineto fatica a trovare gli spazi mentre il Fiuggi ben messo in campo da Incocciati chiude tutte le porte e Amaolo prova ad inserire forze fresche fuori Serra e Tomassini dentro del Mastro e Olcese e proprio il neo entrato al minuto 17 mette in movimento Minnozzi che apre per esposito il diagonale del centrocampista e la pronta risposta di Novi a chiudere lo specchio. Sale di intensità il Pineto che ora meriterebbe di trovare il gol del pari e che alla mezz'ora grida alla rete quando Olcese di testa impegna Novi che trattiene la palla sulla linea a detta del direttore di gara Graziella Pirriatore che tra le proteste biancazzurre interrompe il gioco e fischia la carica sul portiere laziale. Ma i locali continuano a premere sull'acceleratore e trovano l'episodio chiave nel finale quando Della Quercia se ne va in percussione sulla destra entra in area e viene messo giù da Proia l'arbitro indica il dischetto e Minincleri a fil di palo Beffa Novi portando i suoi sull'1-1. Un pareggio che non fa felice nessuno ma che evita una sconfitta che avrebbe rappresentato una punizione troppo cosciente per i biancazzurri autori di una buona reazione ma ancora troppo poco concreti un piccolo passo in avanti in attesa di conoscere se la prossima trasferta contro il Montegiorgio fortemente a rischio si potrà disputare o se ci sarà un altro pit stop. Questa era l'ultima notizia tutti quanti i servizi che avete visto sono sul canale YouTube della nostra emittente sul sito tv6.it Prima di salutarvi vi ricordo che questa sera alle ore 21 andrà in onda a Replay la trasmissione sportiva di Enrico Rocchi dedicata al mondo bianco-azzurro l'informazione invece tornerà alle 23 con l'edizione della notte grazie e una buona serata Grazie a tutti